buongiorno Ilaria ti sei svegliata bene? si è un po macchinoso dormire qua eh però non ci siamo dimenticati di filmare stasera dobbiamo ricordarci perché praticamente facciamo dormire una bambina qua sulla dinette tiriamo giù tutta la dinette e una bambina sul sedile con un materassino il tavolo qua si abbassa lì si gira così almeno perché se è corto il letto che facciamo almeno può mettere i piedi sul sedile invece io dormo qua su questo sedile lo giriamo però senza questo lo giriamo tiriamo via tutti i vestiti che se no facciamo che ci sediamo sopra lo giriamo lo abbassiamo tutto e poi mettiamo su quel materasso che adesso ho messo fuori lì che si piega in tre stasera se ci ricordiamo vi facciamo vedere è un cuscino è un cuscino sì un cuscino è un pusher aspetta un cuscino qua poi tipo una coperta con un sacco a pelo sì un sacco a pelo ok adesso bevo il caffè e i nonni dormono lì dietro nell'altro letto dorme dove sta dormendo mia sorella ragazzi l'antonella è già all'opera è certo sta facendo la spremutina è certamente per il nonno e la bambina anche la bambina è certo che la vuole ah la vuoi la spremutina è certa l'ho detto prima adesso poi mettiamo quello elettrico l'aria è già all'opera col telefonino a giocare e sono solo le che ore sono 8 e 20 8 e 20 e già all'opera adesso io tiriamo via no ragazzi anche oggi giornata spettacolare c'è qualche nuvoletta lì sulla cima però gran giornata anche oggi dai buongiorno Angie sei pronta a fare un giretto a piedi? sì 3 ore non sopporto eh no non 3 ore andiamo a vedere ci sono delle piccole cascatelle se troviamo la strada andiamo se sbagliamo strada ha pazienza cosa Anto? me lo metto il borsino ti metti il giacchino? sì perché mi sembra anche l'aria porta anche l'ombrello va di l'aria? porta l'ombrello perché vedi mi sembra molto nuvoloso mi lanza la guarda me la metto solo a cintura certo che ragazzi qui la pace assoluta sì veramente cosa ha detto la nipote? ti mordo questa vita gli piace perché si va in giro si fa quello che si vuole però ogni tanto non c'è il wifi perciò eh quello è il problematico esatto abbiamo i primitivi ma questo problema qua ah che so allora non conoscevo nemmeno quello che fa eh Anto cosa? stamattina quando mi sono svegliato sentivo tic tac tic tac sembrava un orologio orologio invece l'ilaria o col piedi o col materassino aveva scelto le frecce aveva scelto il tastino delle quattro frecce e sentiva tic tac ragazzi ieri sera abbiamo scoperto che qui c'è un'altra area sosta ignorante ignorante proprio alla buona carino c'è anche per fare il fuoco là abbiamo visto il bracere ci sono i giochi guarda mannaggia il sentiero si fa impervio è la madosca la madosca vai la nonna sempre l'ultima vai la nonna prima ero prima ero io l'ultima era mia da dove si sale? da questo non è niente tu devi andare così mi hanno già abbandonato vado su un pezzo da solo mi abbandonate qua? che cattive mi ha messo addirittura la catena raga per aggrapparsi wow spettacolo allora ragazzi stiamo facendo questa strada per arrivare alle cascate come già è stato detto credo abbiamo fatto queste scale qua dove l'aria sta salendo e più o meno praticamente cosa ho scoperto praticamente il sentiero è questo e continua fino a di là le cascate si intravedono c'è il catenaccio per attaccarsi stai zitta il sentiero segnato ma abbastanza abbastanza salve ciao ah saremmo arrivati stiamo salendo le scale il paesaggio più o meno e questo è fantastico io non le fai neanche qui bello eh mi sembri un camoccio uno stambecco si la nonna c'è il suo stile a scendere se vuoi una mano dimmelo Anto eh ragazzi guardate che formicaio gigante eh no ma avvicinati pure eh ma non so se vado se è a fuoco però dopo non so quanto è il minimo allora Ilaria stiamo raccontando le fragoline di bosco vediamo se sono buone Ilaria le mangia tutte no manca anche io si buone buone che fiole eh volevo chiedere il mio gruppo orchidee ah non lo so trafianila così che gli faccio una foto è caduta sorridete cioè ragazzi cosa devo dire alle mie nipotine questa qua qua col telefonino in mano da stamattina no da stamattina quell'altra l'ha appena mollato il telefono perché adesso si è messa a bere la coca cola che non ha mai bevuto in vita sua infatti tanto onellina cosa si mangia di buono? racconta ai nostri amici basta asciutta con il sugo senza sugo con il sugo per voi ma il sugo come? con il sugo di pomodoro fatto da me ok poi cioè l'Ilaria la vuole in bianco l'Ilaria la mangia sempre in bianco ma poi non mette neanche no mette l'olio 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 mette l'olio si te mangia niente questa è la dieta ragazzi se vi faccio vedere una cosa che non ci crederete mai venite con noi venite con noi stanotte nevicherà pioverà chissà che verrà giù la grandine e piovono biglietti da 10 euro guardate qua cosa stanno facendo le nostre nipoti non ci posso credere non ci posso credere stanno lavando i piatti hanno voluto lavarli loro brava Ilaria sono bravissime guardate con che perfezione sono qua da mezz'ora hanno lavato un cucchiaio poca miseria asciacquano nella penne nell'acqua no stai zitto Ilaria l'altra rispuglia sì Ilaria è brava vero Ilaria un po' come in fracere adesso quando ho finito di lavare i piatti sbarachiamo tutto andiamo verso Zernez che ho visto un campeggio e niente andiamo lì vediamo com'è sembra carino dalle foto pronti? ok si riparte si riparte ragazzi andiamo verso Zernez la prima è che è per la patente sa uno che ha fatto la patente non so 30 l'ora non so anche i tuoi mi ha messo pure il cartello 30 30 che è un principiante si comunque ragazzi hanno delle strade che sono spettacolari non c'è una buca fantastica andiamo a fare la Bulapass giriamo di qua di 41 dobbiamo andare per Davos vediamo un po' come cosa c'è scritto qua Bergou Preda aperto felicità Come diceva Renato Mio Dio E' brutta, brutta, è stretta, ci sono le rocce a picco Oh la Renault Alpine, guarda qua, vecchissima questa macchina Questa è un'azienda di popolare, lo spettacolo Ragazzi siamo sulle strade dell'Antonella Guarda che bello Angi, riprendi bene con le montagne là in fuori Guardate più bello Che strettoia, qui camminano in mezzo alla strada tranquilli, tanto tutto normale Non è che siamo finiti nella zona pedonale Angi Ho sbaglio Ma che pensi? Ma sto scherzando Ma sai che è successo a me la mamma? Dai zio, cammina che prendo l'aria in corsa Io la mamma, io la mamma e l'aria in seconda Se ti vuoi fermare un attimo Io non mi fermerei Ma che bello giù lì, vai via, è bello riprendere Eh ma non si riesce In basso Anto? Io non so Orca anche l'aria ponte Crac Abbiamo perso i pannelli Io farei anche passare questi se riesco Ragazzi ma che strada è questa qua? Si è catrame Mamma mia Osteria 3,3 Ci passa Chissà che siamo vicini al passo Ma ti ricordi Anto? Mi sembra che ci siamo fermati e abbiamo comprato la bottiglietta d'acqua No, volevi comprarla, non l'hai comprata perché costava troppo Questi perché devono venire in questo E' da questo Ok, cazzo E' una questione che ci sono io a figurare C'è arrivato un lago Non lo so Di sera Per il tempo si spera Spettacolo ragazzi Cazzo che bello Ce la fai l'aria o mi devo fermare? Aspetta ti faccio passare a questo Mi fermo? No ma vai avanti Vai avanti con un pezzettino Ah vero? Ragazzi 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 il ponte ha senso unico alternato qua Ci passa la macchina Eh? Al Bula Pass Arriviamo Siamo al passo Siamo al Bula Pass Si siamo al passo Ma lì stavamo facendo tutti i lavori C'era un piccolo parcheggio ma era pieno Non si poteva Qua guarda si ferma qua Così noi facciamo la pipì Ilaria fa la pipì Dai Vediamo se riesco a trovare un punto più piano Eh insomma il punto piano Così dai Così noi tutto guardiamo Definitivi Vediamo ad Grazie a tutti. 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 Ci siamo piazzati qua, non è il massimo di campeggio perché c'è un mucchio di gente ragazzi. E' un mucchio molto bello. Però le bambine piace perché c'è il bel prato. E' molto bello così. Cosa Ilaria? Un mucchio è molto bello. Ti piace? Io giro a pieni di nudi. Eh, così le bambine sono contenti. Domani si torna a isolaccia. Allora ragazzi ci siamo dimenticati ieri di far vedere come dormiamo. L'Angelica dorme qua sulla dinette. Abbiamo fatto il primo letto. Adesso facciamo il secondo. Abbiamo tirato su tutto il sedile. Adesso mettiamo questo bel materasso che ci ha regalato il Gigi. E' un po' laborioso la faccenda. Però lo spazio è quello che è. E se c'è ancora di frecce? Spero di no. Ecco qua. Ok? Se hai sentito i tacs c'è il tasto rosso. Quale? Quello lì è rosso grande. Nel quattro frecce, sì. Ok, Anto. Così? Andiamo a vedere se così va meglio. Sto più fermo il materasso. Ok. No, ecco. Dove vai? Ti devo filmarti sul nostro superletto per far vedere i nostri... Mettiti su con la testa lì. Allora, la mia grande invenzione semplicemente perché almeno le coperte non toccano i piedi. Perché se tocca i piedi cosa succede? Se ti toccano i piedi cosa succede? Mi spavento. Mi spavento? Sì, perché la coperta potrebbe toccare i miei piedi da un momento all'altro come in questo preciso momento. E allora cosa succede? Penso sia un animale, un qualcosa... Un animale. Inquadra bene l'animale. Un animale. Ah, è questo l'animale. Un animale. Allora riesco a risparmi. Oh Dio. Ragazzi, buongiorno. Anto sta già facendo il caffè. Giornata spettacolare. Anche oggi. Peccato che... Peccato, vabbè. Torniamo a isolarci. Non è che abbiamo Milano. C'è qui un bel casino. Mamma mia. Ieri siamo scesi giù. Ieri siamo scesi giù, si va sotto, c'è tutta la discesa, c'è un mucchio di tende. Bellissimo. Solo che è troppo pieno. Abbiamo trasferito le bambine nel letto grande. Sveglia Angie. Ti sveglia? Ma quell'altra? E ti faccio un gavettone. Guarda che qua i bambini della tua età stanno già in giro in bicicletta. Guarda, guarda là. Guarda. Bicicletta. Guarda che c'è il mio bicicletto. No, non sono in giro. Allora Antonella ieri cercava le fette biscottate e non le trovava. Non le ho trovate. Le ho trovate. Adesso salta fuori che... Che aveva anche la scatola apposta. C'è anche la scatola apposta. E sì che il camper non è tanto grande. È un camper. Riusciamo a perdere le cose... Quanti metri quadri saranno? Due per due. Due per due. Devi lasciare in contemporanea. Quando tu lasci la frizione acceleri per poco. Poi dipende. In questo qua ad esempio se lascio anche la frizione lentamente. Guarda il piede. La lascio lentamente. Senza accelerare va. Ma ci sono macchine che se ne dà un po' di gas si spengono. Tipo la Twingle. Mi sento parlare della Twingle. Vale. Allora andiamo verso Livigno per andare verso Isolaccia. Giusto? Sì, abbiamo andato. Sulla nostra destra c'è la funivia che vi porta su a ghiacciaio di Evolezza. Siamo ritornati al Bernina. Adesso entriamo Livigno. E poi boh. Cosa facciamo? Boh. E' alto? Non so. Se vuoi ci prendiamo più caldo con le specche. Eh sì. E' un po' di mezzo gioco qua. Eh, è già mezzo gioco qua. E poi andiamo a casa. No, no, no. Ok ragazzi abbiamo passato la Dogana. Come era andata non c'è nessuno. Era praticamente chiusa. Ciclisti. Ciclisti ce ne sono tanti. Come sempre ovviamente. La strada si fa stretta. Ragazzi se venite in Svizzera ricordatevi di togliere il roaming perché qua mi pelano. Che strada. Poi la nonna non vuole fare il gabbia. Eh nonna. Non andiamo sul gabbia nonna. A me non piace proprio il passo d'arte. Perché è tipo così selvatico. Selvaggio. Entriamo a Livigno. Qui ci sarebbe la Dogana. Ci sarebbe la Dogana. Ci sarebbe. Non so perché l'hanno costruita che tanto alla fine si è stata chiusa. Questa casetta qua. Siamo in Italy. Siamo in Italy. Sì Anto. Bella bistecchina per me Rangi. E Vilaria invece cosa si mangia? Ciampette d'anguilla. Ciampette d'anguilla. Ma te mangi sempre ciampette d'anguilla? No io mi mangio la bresaola. Ah già che hai preso la bresaola. Ok. Certo. Ok ragazzi siamo tornati a casa. Finito il giro della Svizzera. Abbiamo fatto due notti fuori. Adesso che facciamo? Basta. Aspettiamo. Vediamo. Se fare un altro giretto. Magari qualche giorno. Certo. Lo faremo sicuramente. Ciao a tutti. Prima di salutare definitivamente. Vorrei tanto dirvi. Vi consiglio di leggere Frank Stein di Mariscieli. Lo sto leggendo adesso per scuola. E mi sta piacendo tantissimo. Ve lo consiglio. Ciao. 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 Grazie.